vangelo del giorno dal vangelo di gesù cristo secondo luca in quel tempo di ritorno da emmaus i due discepoli riferirono ciò che era accaduto lungo la via e come avevano riconosciuto gesù nello spezzare il pane mentre essi parlavano di queste cose gesù in persona apparve in mezzo a loro e disse pace a voi stupiti e spaventati credevano di vedere un fantasma ma egli disse perché siete turbati e perché sorgono dubbi nel vostro cuore guardate le mie mani i miei piedi sono proprio io toccatemi e guardate un fantasma non ha carne e ossa come vedete che io dicendo questo mostrò loro le mani i piedi ma poiché per la grande gioia ancora non credevano ed erano stupefatti disse avete qui qualcosa da mangiare gli offrirono una porzione di pesce arrostito egli lo prese e lo mangiò davanti a loro poi disse sono queste le parole che io vi dicevo quando era ancora con voi bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di mosè nei profeti e nei salmi allora aprì loro la mente all'intelligenza delle scritture disse così sta scritto il cristo dovrà patire e risuscitare dai morti il terzo giorno e nel suo nome saranno predicate a tutte le genti la conversione e il perdono dei peccati cominciando da gerusalemme di questo voi siete testimoni